buongiorno a tutti oggi insomma premessa permettendo che avrei voluto fare questo video messaggio diciamo da fino all'albero di natale ma per motivi diciamo di confusione che comunque per altri motivi che non dipendono da me l'ho potuto fare per vocivare eccetera sono costritto a farlo qui ce l'avrei voluto fare fino all'albero di natale per rendere ancora di più magica atmosfera di questa di questa occasione perché occasione oggi è un giorno molto speciale cioè speciale comunque perché è il compleanno di una grandissima attrice nonché bellissima donna è stata una straordinaria a meno di vedere di twin peaks cioè medicine emic appena letto anche la pronuncia precisa in tedesco e a quanto pare prima dicevo mad cn med che ma adesso l'ho letta bene diciamo dovrebbe essere medicine medicine emic quindi la nostra cioè medicine emic la nostra grandissima shelley shelley johnson che